Le sensazioni in generale sono le stesse di quando io poi ho accettato di venire su questa panchina. Questa panchina è un motivo di orgoglio e di grande responsabilità e di conseguenza bisogna andare poi qualche volta a fare delle scelte. Però ancora un po' presto per cominciare a tirare delle somme perché mancano molti campioni e quelli che ci sono hanno confermato le qualità che conosciamo ormai un po' tutti. Per cui aspettiamo un altro po' di avere tutto il gruppo a disposizione e poi magari di essere un po' più precisi. Grazie. 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 Grazie.